Ciao, oggi parlo di uno strumento che abbiamo già utilizzato in qualche lezione precedente in modo un po' veloce. Questa volta volevo soffermarmi un pochino di più, fartelo vedere meglio perché è veramente utile. È lo strumento che serve per rimuovere lo sfondo a un'immagine. Ovviamente come al solito io mi sto rivolgendo in modo particolare a chi utilizza Canva base perché chi ha la versione a pagamento o Edupro ha già lo strumento per rimuovere lo sfondo però potrebbe essere utile comunque. Allora facciamo subito un esempio e diciamo che io voglio preparare un biglietto di Natale, vado su elementi, scelgo questa immagine che mi va bene, dico di impostare l'immagine come sfondo così sono già a posto. Adesso io però voglio inserire all'interno di questo biglietto un gatto natalizio che io ho già cercato per accelerare i tempi. Se io scelgo questa immagine e la piazzo qui, posso certo posso rimpicciolirla, posso anche tagliare un po' di questo di questo sfondo. Questo è il massimo che io riesco a fare però se tu ci fai caso si vede che questa è una fotografia appiccicata sopra perché lo sfondo è diverso e se io l'allargo ovviamente copre gli elementi dell'immagine che fanno da sfondo. Cosa mi servirebbe? Mi servirebbe avere solo la figura del gatto. Questo sfondo qui mi dà fastidio. Come posso fare? Per prima cosa devo scaricare questa immagine perché non avendo la versione a pagamento devo lavorare sull'immagine separatamente. Allora intanto aggiungo una pagina, lo piazzo nella pagina sotto e poi come abbiamo imparato a fare seleziono questa pagina e scarico in formato png solo la seconda pagina. Perfetto ci mette pochissimo perché è un'immagine e scrivo gatto. L'appoggio un attimo sulla scrivania poi vado ad aprire lo strumento di cui ti parlavo prima che è questo qua, Pixlr. Ecco qui, di solito è il primo nella pagina del browser. Clicco, scelgo questo, la pubblicità la tolgo, apri immagine e vado a prendere dalla scrivania. Eccola qua. L'immagine che ho scaricato prima. Apri. Ecco fatto. Cosa posso fare io adesso con questa immagine? Posso fare un sacco di cose. Oggi ci fermiamo in particolare sulla rimozione dello sfondo. Allora vado qui dove c'è scritto ritaglio e ho la possibilità di scegliere tra questi strumenti. Se io scelgo pennello mi compare questo pallino rosso che corrisponde, vedi, a questo. Se io clicco sul mouse e tiro una linea così, copro uno spazio, vedi che mi è stato tolto un pezzetto di sfondo. Però è sfocato, vedi? Perché? Perché qui mi viene dato il 50% di morbidezza. A me tutto sommato non serve. Allora io cosa faccio? Sposto questo, mi metto 0. Vedi com'è cambiato? Adesso è perfettamente nitido. Qui invece io ho la dimensione del pennello. Vediamo. Se io vado a 121 mi metto qua e vedi che è molto più grande. In questo caso potrebbe essere utile perché in pratica io, vedi, sto togliendo proprio tutto quello che mi serve e posso anche utilizzare un pennello ancora più grosso per far prima. Per togliere la parte, ecco qua, vedi? La parte grande. Io tengo premuto, mi viene visualizzato in rosso la parte che sto togliendo, poi lascio andare il tasto del mouse e questo è il risultato. Ricordati sempre che quando vedi le immagini dei pixel, cioè questi quadrettini grigi e neri, significa che qui non c'è nulla di visibile. Ok? Bene. Adesso però io devo entrare nei particolari. Posso togliere ancora questo, 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 questo. Però adesso non posso più usare un pennello così grosso. Allora, intanto diminuisco il pennello. In compenso mi conviene aumentare la grandezza dell'immagine. Basta scorrere la rotellina del mouse e io posso lavorare, vedi, muovendo poi le barre su e giù o a destra e a sinistra. Qua mi compare l'immagine che mi fa vedere qual è la parte del disegno su cui sto lavorando. Il pennello è ancora un po' grande, lo diminuisco ulteriormente e posso di nuovo fare questo lavoro qui senza toccare l'immagine perché ancora non è un lavoro di fino. Oppure posso fare un'altra cosa così ti faccio vedere un altro strumento. Ecco, posso utilizzare questo, ritaglio con lazzo. In pratica se io tengo premuto il tasto del mouse e mi muovo, posso selezionare tutta un'area, devo chiuderlo ovviamente il cerchio. Come lascio andare? Ecco fatto, è stato ritagliato via un pezzo di sfondo. Allora, proviamo a vedere se riusciamo a utilizzarlo in un altro modo. Allora, qua, allora io sono sicura che per forza l'immagine finisce e quindi... E qui posso avvicinarmi molto di più rispetto al pennello. Ed ecco che ho tolto un altro pezzo. Vediamo qui cosa posso fare. Ingrandisco ancora un po' e sempre con questo lazzo tolgo questo pezzo, tolgo questo pezzo. Ecco, mi sono avvicinata molto all'immagine. Adesso che abbiamo tolto il grosso, possiamo avvicinarci e fare il contorno. Ovviamente, avendo scelto un animale col pelo, è chiaro che non potremmo essere precisissimi. Il lavoro è un pochino noioso, se vogliamo. Però è l'unico modo che abbiamo per rifinire questa immagine. Ho anche lo strumento forma. Facciamo un esempio. Se voglio andare perfettamente diritto, posso utilizzare questo. Siccome noi qui avevamo la fotografia che comunque era tagliata, se l'avessi fatto a mano sarebbe andata tutta storta, invece io ho utilizzato la forma e ho potuto fare la parte diritta. Adesso termino il lavoro. Cerca sempre di essere preciso. Vedi che io ho fatto un errore, sono tornata indietro. Ok. Una volta che hai terminato, salvi. Salva come scriviamo gatto senza sfondo e lo risalvo sulla scrivania. Benissimo. Torno nel mio progetto senza titolo che abbiamo messo. Ciao, diamogli un titolo. Prova sfondi. Ok. Adesso questa immagine non mi serve più. Posso tranquillamente cancellarla. Torno su, vado in caricamenti, carica file, gatto senza sfondo. Devo prendere questa, ovviamente. Lui sta caricando. Ecco qua. Clicco e la metto qui. Allora, adesso per prima cosa taglio tutta questa parte che non mi serve e che occupa spazio. È vero che non si vede, ma occupa spazio. Quindi taglio qui, taglio qui e tengo solo l'immagine del gatto. Dopodiché lo farò partire da qua, per forza, perché... e posso anche allargarlo benissimo. Facciamo un altro esempio. Invece che su elementi, vado direttamente su foto e questa volta cerco... regalo di Natale. Metto il filtro gratis, sempre, e vado a cercare un bel pacchetto regalo da inserire. Ecco, magari questo. Ma siamo da capo. Vedi? Io ho di nuovo un'immagine che però ha un suo sfondo. Allora, rifacciamo il lavoro di prima. Mettiamo l'immagine in una pagina vuota. Scarichiamo l'immagine in png, ovviamente, e solo la seconda pagina. La salvo sulla scrivania. Torno sul mio editor. Vado in home page. Vedi qui dove c'è la casetta. Apri immagine. Eccola. E poi lui ti chiede, vuoi aggiungere l'immagine come un nuovo livello oppure come un nuovo progetto? E noi gli diciamo crea nuovo. Allora, qui abbiamo la nostra immagine. Scelgo addirittura il lazo, così faccio prima. Ed ecco qua, qui è un po' più semplice, perché il pacchetto è più regolare. E tolgo lo sfondo. Allora, voglio farti vedere anche l'altro strumento che prima non abbiamo usato. Allora, ingrandisco moltissimo, in modo che si veda bene. E poi scelgo bacchetta magica. Bacchetta magica praticamente rimuove i pixel. Vedi? Allora, ingrandisco ancora di più. Io vado sopra, do un click con il mouse e toglie i quadratini. Allora, questo mi serve se devo rifinire in modo precisissimo un contorno. O se nel pulire magari col pennello mi rimangono dei puntini qua e là. Naturalmente ti conviene aprire di molto, ingrandire di molto e poi stare molto attento. Stare molto attento perché guarda quello che succede. Lui va a togliere, vedi, tutti quelli che hanno lo stesso colore. Ti faccio rivedere. Se io clicco su questa tonalità, mi toglie tutti quelli di questa tonalità. Allora, adesso noi stiamo togliendo una parte che va comunque tolta tutta. Io l'ho tenuta solo per fartela vedere. Ma bisogna stare attenti quando si va a pulire il bordo di un'immagine. Allora, in questo caso la parte, te la faccio rivedere, questa parte marrone scuro faceva parte dello sfondo. Quindi io clicco e va bene se vanno via tutti, ok? Ma se questa fosse una parte del disegno, io faccio così, mi vanno via tutti. Quindi diciamo che l'utilizzo della bacchetta magica va fatta solo quando io ho un grande contrasto tra lo sfondo e il colore della mia immagine. Per il resto posso utilizzare gli altri due strumenti. Allora, abbiamo visto il lazzo per fare il contorno. Adesso posso andare tranquillamente sul pennello. Lo aumento di tanto. Ecco. E vado a togliere tutto quello che non mi serve. Qui posso lavorare senza problemi così grosso. Ok. Ok. Vedi che qui ho lasciato, sono rimasti dei pezzettini da togliere. Ecco qua. Allora, diminuisco il pennello e posso fare così e andarli a togliere. Quindi bisogna giocare un pochino ingrandendo il disegno, rimpicciolendolo. A seconda, vedi qua è rimasto un pezzo, qua è rimasto un pezzo. Devi stare molto attento perché poi questo, se io non lo tolgo, quando scarico il disegno, l'immagine, si vede? Invece va tolto. Invece va tolto. Anche qui, vedi che l'immagine mi fa vedere che sono rimasti dei pezzettini bianchi. Allora, li devo andare a prendere. Mi sposto qui, vado a cercarli dove sono, eccolo, e li tolgo. Uno, l'altro è nell'angolino in basso, e lo tolgo. Altrimenti si vedono nell'immagine che poi vai a scaricare. Quindi adesso l'abbiamo rimpicciolita, dovrebbe essere tutto a posto. Ah no, guarda, qui c'è un altro pezzettino che va tolto. Insomma, è un lavoro di precisione, altrimenti rischi di compromettere un bel lavoro. Ok. Adesso però io voglio farti vedere un'altra cosa. Io posso anche agire all'interno. Ad esempio, potrei voler rendere vuota la forma di questa stella. Allora, aumento, ancora una volta. Ecco qua, così posso lavorare bene. Ecco fatto. Qui è rimasto del rosso. Allora, ingrandisco. Qui è rimasto del rosso, che devo togliere però. Quindi cerco di seguire bene, togliere questa parte rossa. Qui. Anche qua. Bene. Adesso, io, come ho fatto prima, salvo. Salva come scriviamo stella. Torno sulla mia, questo lo cancello, caricamenti, carica file e vado a prendere stella. Ecco qua. Taglia. È sempre meglio togliere tutta questa parte perché è vero che non si vede, però c'è e occupa spazio. Benissimo. Ora, a che cosa mi è servito? Mi è servito perché io, all'interno di questa immagine, posso mettere una foto. Ne vado a prendere, ecco, magari questa qui. Benissimo. Allora, cosa posso fare io? Posso fare lo stesso lavoro di prima. Così andiamo un po' sulle cose complesse. Ok. Allora, questa parte la faccio veloce perché tanto ormai l'ha imparata. Dopodiché, caricamenti, carica file, vado a prendere questa. Ecco, vedi, che è quella senza sfondo. La scelgo. Tolgo la parte che mi dà fastidio. Ok. Qual è il vantaggio? Il vantaggio è che io adesso, volendo, posso inserire questa faccia all'interno della stella. Basta che io gli dica, vai indietro. Ovviamente, ecco, come se il bimbo, poi lo devo sistemare, come se il bimbo sbirciasse dal pacchetto, dalla scatola. Ultima cosa. Io posso anche fare così. Ecco, scegliere un'immagine tinta unita, insomma, comunque dove non ci siano dei disegni. Non so, prendiamo questa. Ok. Facciamo lo stesso lavoro di prima, così ti faccio vedere l'ultima cosa. Scarichiamo. E facciamo, la chiamiamo rosso, e facciamo il contrario. Quindi, torniamo qui. Ecco. Questa volta, togliamo solo il bianco. Anzi, anzi, utilizziamo le forme. Così andiamo diritti. Utilizziamo questa. Ok. Poi la utilizziamo qua. E qui. Vedi com'è rapido in questo caso, perché abbiamo una forma regolare. Adesso, all'interno, rimuoviamo delle parti. Utilizzando le forme. Allora, aspetta. Io te le faccio vedere tutte. Ecco qua. Il rettangolo l'abbiamo, il quadrato rettangolo l'abbiamo già visto. Ovviamente poi trascinando puoi modificarle come meglio credi. Qui, qui invece, ecco, io posso anche togliere una righettina. Vabbè, mettiamo anche l'ultima. Ecco fatto. Vediamo come utilizzare. L'abbiamo visto. Io gli dico salva. Torno sul mio... Questa la tolgo perché non interessa. Caricamenti. Carica file. Rosso senza sfondo. La metto qui. Adesso io posso utilizzare questa immagine come una cornice, come anzi una serie di cornici. Perché? Perché quelli che vedi non sono delle forme bianche, ma sono degli spazi vuoti. Allora, se io vado a riprendere il gatto e il bambino, questi io li posso inserire all'interno delle forme. Basta che giochi sulla posizione. Io gli dico indietro ed ecco che come prima ho il bambino dietro. Stessa cosa faccio col gatto indietro ed ecco che il mio gatto è all'interno dell'immagine. Se voglio posizionare l'immagine meglio, la ritiro fuori, decido che va così e poi gli dico di nuovo di andare dietro. Stessa cosa posso fare per il bambino. Lo posiziono, lo rimetto davanti, ecco qui, ecco, e lo posiziono in questo modo. Oppure posso colorare poi lo sfondo dietro di un altro colore per non far vedere il bianco. Come faccio? Allora, se io gli dico colora lo sfondo, lui mi colorerà tutto. Oppure io posso fare un'altra cosa, elementi, forme, vado a prendere delle forme. Adesso io sto mettendo dei colori diversi per farti vedere la differenza. Ovviamente, quindi abbiamo fatto rosa, mettiamo giallo così tanto per farlo vedere. Io posso prendere questa forma, la metto qui, indietro, ed ecco che il mio cuore diventa giallo. La stessa cosa posso farla qua. Allora, andiamo a prendere un'altra forma. Cambiamo il colore. Mettiamo di nuovo questo giallo. Io la metto qui, in modo che mi copra tutta la stella. Poi dico vai dietro, sullo sfondo. Attenzione perché io qui ne ho due di oggetti, eh? Ho sia la parte rossa sia la fotografia, quindi io devo inserire dietro. E così, avanti. Posso fare la stessa cosa per il gatto. Quindi, in questo modo, io ho la possibilità di lavorare... Ecco qua. Di lavorare su più livelli, inserendo tutto quello che voglio. Proprio come se fossero degli oggetti veri e propri. Ovviamente io ho scelto delle immagini che si trovavano in foto, ma la stessa cosa la puoi fare tranquillamente con delle fotografie tue. Questo può essere il tuo gatto, questo può essere il tuo fratello. Parti dalla fotografia tua, la metti su un nuovo progetto e hai la possibilità di inserire qualsiasi immagine in qualsiasi forma. Sai che poi puoi aggiungere comunque tutti gli altri elementi, come scritte, come altre cose che puoi mettere sopra. Spero di esserti stata utile. Ci vediamo alla prossima. Buon lavoro! Buon lavoro!